Buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione mare per incidente 7 km di coda tra Montelupo ed Empoli, per lavori 5 km di coda tra Firenze, Scandici e Ginestra, Fiorentina, sempre per lavori 2 km di coda tra Ginestra e Lastra, Assigna in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna e per lavori rallentamenti tra Baldarno e Arezzo in direzione Roma. In A11 code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Per lavori ci sono anche code sulla A12 tra il Vivio per la A15 e Carrara e sul raccordo Lucca-Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!